Ai residenti di Cucurano sembra che nessuno ascolti i loro appelli legati alla sicurezza di alcune situazioni pubbliche più volte denunciate come una strada mai realizzata per via di un cantiere fermo, marciapiedi inesistenti lungo la Flaminia per le case che vi si affacciano e fermate indecenti del bus ma che anzi le cose peggiorino. E' per questo che ad alcuni mesi di distanza lo stesso portavoce di allora, Costa Giuseppe, oggi candidato nella lista civica Nuova Fano, ci ha richiamato. Ad oggi non solo la fermata del bus è ancora lì sul ciglio della strada e che i ragazzi hanno continuato ad aspettare in mezzo alla strada tra pioggia e vento come anche in altri punti della stessa Flaminia, pur essendoci anche le possibilità di ricavare salvagenti e tettoie in altri posti, ma altre situazioni si sono aggiunte come il sovraccarico del traffico pesante per l'edificazione della tanto agoniata nuova scuola di Carrara e Cucurano che sta gravando solo su una parte del quartiere della frazione, con la conseguenza di strade ridotte in minimi termini e danni ai marciapiedi esistenti, non essendo mai stato realizzato il raccordo con la Flaminia che invece avrebbe evitato tutto questo sovraccarico di traffico. Si sentono inascoltati e i cittadini di Serie B, i residenti di questa zona di Fano. Costa, siamo ritornati qui perché dall'inizio dell'anno nulla è cambiato. No, nulla è cambiato, di fatti vi ho chiamato di nuovo per farvi notare un altro problema, che non ci stanno strisce pedonali utili per poter attraversare, non esistono marciapiedi e quei pochi marciapiedi che ci stanno sono invasi dalla vegetazione e quindi i marciapiedi non esistono sulla Flaminia. Quindi io chiedo ad Altavoce di poter fare almeno un marciapiede sulla strada, su un lato, per poter passare in sicurezza. I residenti qua sono residenti e cittadini di Serie A come gli altri, quindi penso che abbiamo diritto di avere i servizi e diritto di essere ascoltati. Siamo in una zona un po' distante dalla Flaminia ma siamo venuti qua per un motivo di decoro pubblico. Questa è una via di mezzo che porta da Cucurano a Bellocchi, una strada realmente lasciata all'abbandono perché è un colabrodo, ma oltre a questo c'è un fosso che si collega con via Flaminia. L'hanno pulito perché si vede, qua non si vede, l'hanno lasciato abbandonato con gli sfalci che non esistono e il fosse pieno.